Gentili telespettatori, buona giornata. Beh, parliamo della triste storia dei banchi a rotelle. 500 milioni di euro buttati nel water per comprare dei banchi a rotelle che nessuno, nessuno, è riuscito mai a spiegarmi a che cosa servono. C'erano i banchi da due posti, quelli classici che abbiamo utilizzato tutti. Due posti, due bambini, due bambine, no? Bastava togliere uno per banco, rimaneva uno in ogni banco ed era fatto il distanziamento di un metro, senza spendere 500 milioni di euro. Banchi a rotelle che si spaccano le rotelle dopo un mese, li puoi buttare via, plasticaccia schifosa. Adesso finiscono anche in magazzino perché fanno male alla schiena. Divenuto in questi mesi il simbolo dello spreco nella gestione dell'emergenza coronavirus, non saranno utilizzati in Veneto, spiega l'assessore, al regionale, all'istruzione. Se voi li guardate nella foto sono un qualcosa di ridicolo che si spaccheranno in brevissimo tempo. Quindi non c'è pace per quei famigerati e stupidissimi banchi a rotelle voluti da Lucia Azzolina per facilitare il distanziamento. Ma intanto sono stati comprati 430 mila, spendendo una cifra enorme. Sono stati pagati 280 euro l'uno. Sapete cosa costa un banco normale? 100. Questi sono stati pagati 280 di plasticaccia con le rotelle. Finiti al centro di un'indagine della Corte dei Conti e della Guardia di Finanza. Presi in giro in internet, forse oltre i loro effettivi demeriti, ora si scopre che in Veneto vengono messi nei magazzini perché fanno venire mal di schiena agli studenti. L'assessore all'istruzione regionale Elena Donnazzan, all'indomani della riunione con le sigle sindacali, l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti, la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo e la prefettura di Venezia, convocata in vista del ritorno in classe dei ragazzi. Dice abbiamo a tutti convenuto che in questo momento delicatissimo di riapertura ci sia bisogno di serenità, soprattutto per le famiglie interessate, di informazioni univoche e certe, evitando continue altalene e cambi repentini di rotta. In particolare a livello centrale, dice Donnazzan, le parole devono essere concrete e utili come lo devono essere i fatti. Bocciamo pertanto interventi assurdi e poco salutari come lo sono stati i banchi con le rotelle, che come emerso nella riunione sono stati ritirati dai plessi scolastici in cui erano stati introdotti perché erano causa di mal di schiena. Il segretario dello SNALS, Daniela Avanzi, aveva sollevato il problema. Soprattutto nelle scuole medie i banchi a rotelle avrebbero provocato problemi posturali agli alunni, probabilmente perché questi ultimi sono ancora troppo piccoli per adattarsi alle sedute originariamente concepite per gli adulti e, come è stato detto duramente la riunione, impropriamente riutilizzati come banchi per la scuola. Quindi sono banchi per adulti, è una seduta per adulti. Se ci metti una persona più piccola rimane incurvato, rimani distante dal banchetto. Ecco, ecco, ecco. Tra gli ingressi scaglionati, i mezzi pubblici che non ci sono, gli orari di punta, tutto quello che è stato fatto, con quei 500 milioni di euro si potevano comprare. Autobus, carrozze della metropolitana, del treno, no. I banchi a rotelle, veramente, è un qualcosa che fa venire i brividi. Bisognerebbe fargli ripagare a Lazzolina questi banchi a rotelle. Arcuri, a Conte, a tutti i ministri. Dal loro stipendio, da adesso per tutta la vita, bisognerebbe fargli pagare i banchi a rotelle. In Veneto sono stati distribuiti circa 9.000 banchi di questo tipo, solo che alcuni dirigenti li hanno ritirati, ma non so in che quantità, dice Marta Viotto, della CGL, direttrice dell'ufficio scolastico, anche Carmela Palumbo. A leggere le cronache delle ultime settimane, sono molti i presidi che hanno denunciato pubblicamente questa scarsa funzionalità dei banchi finiti sotto accusa. Difesi in questi giorni continuamente dal ministro Azzolina, che dice che riducono i focolai e trovo stucchevoli le polemiche. Stucchevoli? Mamma mia. Questi ministri per caso mi fanno venire veramente l'orticaria. Veramente l'orticaria. Lei dice che si tratta di strumenti che fanno parte di scuole innovative e permettono un approccio alla didattica diverso. Diverso? Perché? Perché ti puoi muovere con le rotelle un approccio alla didattica diverso? Finché le rotelle non si spaccano, eh? Le rotelle dopo una settimana si riempiono di fili, si bloccano, poi si spaccheranno, stack! Mamma mia, mamma mia. Il banco con le rotelle riduce i focolai, mentre il banco da due con una sola persona invece non andava bene? Mamma mia. È accaduto a Rossano Veneto, nel Vicentino, a Cadoneghe, nel Padovano, a Rovigo, a Badia Polesi. Nella prima scuola a riceverli era stata in estate quella di Vo Euganeo, luogo simbolo della battaglia contro il coronavirus, dove Mattarella aveva inaugurato appunto l'anno scolastico. Il preside, pensate, d'Ambrosio se ne era lamentato su Facebook, finendo sotto procedimento addirittura disciplinare. Io, beh, adesso sto guardando qui un banco di questi qui a rotelle. Realmente ha la schiena molto indietro, non è ovviamente ergonomico. Il banco deve essere come una classica sedia, con lo schienale semidritto. Non può essere una roba tipo divano, perché il bambino ha le medie che è più piccolo, in questa cosa è indietro, si deve incurvare in avanti, non vanno bene, non vanno bene. Vi invito a vedere alcune di queste foto per farvi assolutamente un'idea. Non è voler criticare a tutti i costi. Se fosse stata una scelta buona, quella dei banchi a rotelle, nessuno realmente avrebbe detto nulla. Ma in questo caso, veramente, questo dei banchi a rotelle è il simbolo dell'incompetenza di questo governo, è il simbolo dei soldi buttati via. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento. Di giornata siamo anche in Facebook, nell'altro canale di YouTube, Tele Italia Seconda Rete. Nella community trovate anche tanti sondaggi ai quali poter partecipare e commentare. Io vi ringrazio nuovamente e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Se volete, tra circa 20 minuti sarà disponibile un altro video. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.